Ciao ragazzi, oggi voglio mostrarvi un esercizio precisione che insegna a te come rinforzare accuratamente e rinforzare dal lungo in modo direttore. Allo che bisogna è una piccola sorda e una piccola sorda che è un po' più abbraccio che è un po' più abbraccio che la tipa della tua piccola sorda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.